Musica Preoccupazione anche nelle chiese per il rientro degli studenti a scuola vista la difficile situazione covid. Il sindaco di Val Madeira chiede risposte urgenti, rischiamo una quarantena dopo l'altra. Inizia l'azione amministrativa del nuovo consiglio provinciale della presidente Alessandra Hoffman. Assegnate le deleghe a sei consiglieri nei prossimi giorni via al confronto con i civici. Dal 10 gennaio obbligo di Super Green Pass per sciare nei comprensori e intanto ai piani di Bobby in un mese sono state superate le 100.000 presenze. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco. Si avvicina il rientro in classe degli studenti e anche nel nostro territorio non manca la preoccupazione vista l'attuale difficile situazione pandemica. Chiede risposte urgenti il sindaco di Val Madeira Antonio Rusconi. Con tutti questi contagi spiega rischiamo che i bambini più piccoli vengano sottoposti a una quarantena dopo l'altra. Il rientro a scuola preoccupa i sindaci del territorio. Termineranno la prossima settimana le vacanze invernali e i primi cittadini temono di trovarsi di fronte a uno tsunami di contagi che di fatto impedirebbe lo svolgimento delle elezioni. A preoccupare in particolare la situazione nelle scuole dell'infanzia. Chiede risposte urgenti il sindaco di Val Madeira Antonio Rusconi. Non essendoci dispositivi di protezione individuale per i bambini così piccoli, il rischio concreto è che gli alunni vengano sottoposti a una quarantena dietro l'altra. Perché a ogni caso positivo verrebbero lasciati a casa, non essendo vaccinati. L'allarme lanciato da Rusconi. Vorrebbe dire fare settimane ancora senza scuola materna. Si era parlato di test salivari settimanali nelle materne. Ricorda il primo cittadino di Val Madeira, in passato docente e senatore della commissione istruzione. Ma al di là di una sperimentazione a casa Tenovo, è poi tutto caduto nel nulla. Eppure, spiega Rusconi, questa sarebbe la soluzione più semplice e nemmeno troppo dispendiosa, oltre che ben poco invasiva per i bambini. Certo, avrebbe un 10% circa di margine di errore, ma sarebbe già una bella scrematura per uno screening. Chiedo dunque una risposta urgente da parte di ATS e conferenza dei sindaci, conclude Rusconi. Non possiamo più permetterci intere classi a casa, con problemi per i stessi bambini, le famiglie e di conseguenza le attività produttive. Inizia l'azione amministrativa del nuovo consiglio provinciale. La presidente Alessandra Hoffman ha assegnato le deleghe a sei consiglieri. Nei prossimi giorni via al confronto con i civici, spiega. Villa Locatelli, ecco la squadra. La nuova presidente della provincia di Lecco, Alessandra Hoffman, ha firmato il decreto per il conferimento delle deleghe ai consiglieri provinciali, come previsto dalla legge del Rio del 2014, atto che dà avvio all'azione amministrativa dell'ente. Vicepresidente Vicario sarà Mattia Micheli, che manterrà anche la delega alla viabilità che aveva nella precedente amministrazione, guidata da Claudio Usuelli, oltre a quella dei rapporti con Anas e APAF. A Fiorenza Albani la delega a turismo, cultura, rapporti con il consorzio Villa Greppi, Villa Monastero e Servizio Civile. Davide Ielardi si occuperà di bilancio, centro servizi territoriale, rapporti con la comunità di lavoro Regio in Subrica. A Carlo Malugani le delega all'istruzione, alla formazione professionale, al centro per l'impiego e ai rapporti con la fondazione Lavello. A Fabio Mastro Berardino l'edilizia scolastica, l'ambiente, i rapporti con gli enti parco e con l'autorità di Bacino. A Stefano Simonetti, infine passato già assessore di Villa Locatelli, oltre che consigliere delegato. La protezione civile, la polizia provinciale, la vigilanza ittico-venatoria, i rapporti con l'Agenzia per il trasporto pubblico locale, con i comuni convenzionati, con la stazione unica appaltante e la pianificazione territoriale. Rimangono in capo alla Presidente Hoffman le deleghe ai rapporti istituzionali, al personale, al patrimonio immobiliare, al Consiglio delle Autonomie Locali, ai rapporti con Ato, Univerlecco e Lario Fiere, ai progetti europei e al PNRR, alle pari opportunità, alla comunicazione. Ringrazio per la disponibilità alla squadra della lista Casa dei Comuni per essersi messi a disposizione per coadiuvarmi nell'affrontare le grandi sfide che il nostro territorio viverà nei prossimi anni. Con questo primo passo, spiega la Presidente Hoffman, inizia un percorso amministrativo nel rispetto dei ruoli e delle parti, come è emerso dalle elezioni dello scorso 18 dicembre. Nei prossimi giorni, spiega Hoffman, inizierò il confronto e il dialogo con le altre compagini presenti in Consiglio Provinciale, in particolare con la componente dei civici, sulle linee programmatiche, per trovare un'ampia convergenza e far sì che vi sia una comunione di intenti rispetto al ruolo che il nostro ente dovrà avere nell'arco del mio mandato. Nulla cambia con la zona gialla per i comprensori scistici, ma dal 10 gennaio, per regalarsi qualche ora sulle piste, sarà obbligatorio avere il Super Green Pass. Intanto, i piani di Bobbio, in un mese, sono state superate le 100.000 presenze. Oltre 100.000 presenze in meno di un mese, tanti biglietti staccati ai piani di Bobbio, Valtorta e in Valsassina, il comprensorio scistico, a due passi dalla Brianza e a un'ora da Milano, è stato preso d'assalto durante le festività natalizie, soprattutto da turisti mordi e fuggi. Arrivo la mattina, ritorno in serata. Non possiamo che essere soddisfatti, pensando anche alla situazione che stavamo vivendo lo scorso anno, in questo periodo, dice Massimo Fossate, amministratore della società ITB. Ora speriamo nella neve e nel freddo. È annunciato un calo delle temperature nei prossimi giorni, però occupa anche l'aumento dei contagi, ma i controlli sono rigorosi. Nessuno sale sull'uovo via senza che venga verificato il Green Pass. Nulla cambia con l'entrata in zona gialla per gli impianti di risalita, ma a partire dal 10 gennaio, per sciare, sarà obbligatorio il Super Green Pass. Solo chi è vaccinato o guarito dal Covid potrà accedere ai comprensori, come previsto dal decreto firmato il 29 dicembre. Rimane l'obbligo della mascherina FFP2 per salire su cabinovie, ovovie, funivie e seggiovie con la cupola abbassata, assimilabile al trasporto pubblico locale. Anche con la zona gialla e provvedimenti in vigore restano quelli attuali, prosegue Fossati, che è anche Presidente regionale ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. Certificato verde base per accedere agli impianti chiusi con capienza ridotta all'80%. La vera novità scatterà invece tra una settimana, perché chi non ha il Super Green Pass non potrà proprio sciare. L'ultimo decreto non pone differenze tra funivie, seggiovie o ski lift. Chi ha solo il tampone non sale. Provedimento giusto? Non giudico. Mi limito ad applicare quanto disposto. Noi siamo pronti ad attenerci alle ultime disposizioni. Da segnalare infine successo per l'iniziativa Frisky Pass riservata agli under 16 residenti in Lombardia. Da inizio dicembre sono stati emessi 54.762 biglietti giornalieri gratuiti per i ragazzi, 5.503 a Barzio. La promozione voluta dalla regione ha spinto molte famiglie ad avvicinarsi o a tornare sugli sci e ad aiutare la ripartenza dell'intero settore del turismo sportivo di montagna fortemente penalizzato. Lo scorso anno le parole del sottosegretario regionale con delega allo sport Antonio Rossi. A2A e ACSM Agam insieme ad altre società controllate hanno siglato con il consorzio, formato da Scopiave, Acea e Iren, un accordo preliminare per la vendita di alcuni asset in Veneto. Per la multiutility del nord della Lombardia tale cessione è coerente con le linee strategiche del gruppo, consentendo il rafforzamento nei propri territori di riferimento. Gli asset ceduti ritenuti non strategici riguardano la partecipazione detenuta dalla capogruppo in Serenissima Gas e il ramo d'azienda relativo alla concessione gas di Mogliano Veneto detenuto dalla società controllata Le Reti. Il valore economico della cessione per ACSM Agam è di 40 milioni di euro. Gli asset oggetto dell'operazione sommati a quelli ceduti da 2A verranno confluiti in un agnuco in cui il capitale sarà acquisito dai consorziati. Il closing dell'operazione è previsto per il primo semestre del 2022. Il territorio lecchese prepara l'arrivo delle case di comunità, le nuove strutture previste dalla riforma sanitaria regionale e nazionale che serviranno a garantire migliori e più rapidi servizi sanitari ai cittadini, già individuata la loro possibile posizione. Case di comunità. Il territorio lecchese si prepara alla novità introdotta dalla riforma sanitaria Lombarda, il tavolo istituzionale per l'integrazione sociosanitaria del distretto di Lecco, che comprende ambiti ATS, SST, Ordine dei medici di medicina generale e degli infermieri, Federpharma, la cooperativa Cosma, Conf Cooperative dell'Adda, CSV, Monza, Lecco, Sondrio. Ha presentato un documento, frutto di un confronto unitario, che disegna una prospettiva e un modello per portare servizi sanitari e sociali di prossimità fortemente integrati in tutto il territorio della provincia di Lecco. Definita la possibile governance, i meccanismi di collaborazione e i servizi che saranno offerti, individuata anche una possibile posizione sul territorio delle case di comunità. Per l'ambito di Bellano, a Introbio, come sviluppo dell'attuale Prest, e a Bellano, ma in un luogo diverso dall'ospedale. Per l'ambito di Lecco, a Calozio Corte e Oggiono, poi Valmadrera, Costa Masnaga e Olginate, ma solo per il settore materno-infantile minorile. Senza dimenticare il capoluogo. A Lecco, la casa di comunità dovrebbe sorgere in una di queste due scuole, la De Amicis e la Tommaso Grossi. Previsto poi un centro infantile a Pescarenico. Infine, nel Meratese, sono previste tre case di comunità, a Merate, Casa Tenovo e Olgiate. Il gruppo di lavoro ritiene importanti avviare un processo di informazione, riflessione e condivisione con i comuni del territorio e con la popolazione, affinché, già nella sua genesi, il processo di riforma in atto possa essere percepito come un valore per tutti, un cambiamento reale e non una mera razionalizzazione dell'esistente. Una scuola viva e attiva sul territorio. Così Renato Cazzaniga definisce il Centro di Istruzione Provinciale Adulti, Fabrizio De Andredilecco, che dirige dal 2014. L'anno trascorso ha visto infatti la partecipazione della scuola a diverse iniziative di respiro nazionale. Per la finale del premio Scuola Digitale, alcuni studenti del CPA di Lecco sono volati a Dubai per presentare il proprio progetto. Un premio volta a valorizzare i modelli innovativi e le buone pratiche di didattica digitale integrata. A Roma, la scuola si è classificata terza al concorso nazionale Epale EduHack, una sfida a squadre sul mondo dell'istruzione degli adulti e sulle competenze digitali. Infine, grande soddisfazione per il seminario nazionale, che si è svolta a inizio dicembre a Genova, rivolta ai docenti delle scuole secondarie superiori sulla robotica educativa. Un momento formativo promosso proprio dalla CPA di Lecco nell'ambito del progetto Leonardo Visionario. Più telecamere e dispositivi di sicurezza per potenziare il controllo sul territorio nei comuni di Valmadrera, Oliveto e Malgrate. Sentiamo l'intervista al comandante Cristian Francese. I comuni di Valmadrera e Malgrate hanno potenziato il loro servizio di videosorveglianza. È un piacere che posso comunicare che negli ultimi sei anni il comune di Valmadrera, assieme a Malgrate e assieme a Oliveto Lari, perché facciamo parte di un servizio associato, ha ricevuto parecchi finanziamenti da parte della Regione Lombardia. In particolare su 11 progetti che abbiamo presentato, tutti e 11 ci sono stati finanziati. Con i recenti progetti di quest'anno abbiamo ricevuto due progetti, uno per Valmadrera e uno per Malgrate, distinti. In entrambi i casi abbiamo potenziato gli impianti di videosorveglianza con delle telecamere di tracciatura targhe, in grado di riconoscere anche la caratteristica ambientale del veicolo. e siamo passati da un numero di telecamere di circa 50 telecamere a Valmadrera a 71 più 18 lettori targa e a 46-47 telecamere per quanto riguarda Malgrate più anche gli 17 lettori targa. Queste telecamere sono molto importanti perché negli ultimi anni ci hanno permesso di individuare autori di reati, di rilevare con maggiore certezza i sinistri stradali e possiamo dire che sono un notevole passavanti per la popolazione. Parallelamente a questi due progetti abbiamo presentato un progetto invece congiunto, Valmadrera Malgrate e Olivieto Lario. La regione ci ha finanziato anche questo progetto, un totale di 30.000 euro. Con questi soldi abbiamo acquistato un nuovo veicolo di servizio per il comune di Valmadrera e abbiamo potuto acquistare un'antenna per il segnale radio per mettere in comunicazione le pattuglie e oltretutto abbiamo acquistato dei kit per la rilevazione su strada delle sostanze stupefacenti perché uno dei fenomeni che abbiamo visto sempre più crescenti negli ultimi anni è oltre l'utilizzo delle sostanze alcoliche e anche l'utilizzo delle sostanze stupefacenti. Eravamo già dotati di un etilometro e a questo punto siamo dotati anche di strumenti per la rilevazione di queste sostanze sia addosso alle persone che anche sulle superfici. Per ora è tutto, in chiusura come sempre vi ricordo che potete seguire tutte le nostre notizie sul sito teleunica.com, i programmi e il palinsesso su teleunica.tv e tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, buona serata! Grazie a tutti!